Ciao a tutti, eccomi qua con una nuova tipologia di video, ovviamente spero di farla al meglio e spero vi piaccia. Ho comprato questo maglione in ciniglia, caldissimo e bellissimo e volevo farvi vedere diversi outfit su come appunto indossarlo, come cambia un semplice maglione indossato in varie maniere. Quindi spero appunto che il video vi piaccia, se vi piace mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, io cerco di editare video al mercoledì e al sabato, quindi ristate sempre connessi con i miei video. Spero che il video vi piaccia e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!